ricorreva in quei giorni a gerusalemme la festa della dedicazione era d'inverno gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di salomone ciao cari amici e bentornati alla barba di aronne in questo episodio come annunciato al termine dello scorso faremo un ulteriore passo avanti sull'ebraicità di gesù ci siamo lasciati con questa domanda gesù era ebreo solamente di nascita o viveva una vita da ebreo e nello specifico la domanda che il titolo di questo nostro episodio è questa qui gesù per esempio festeggiava le feste ebraiche gli evangelisti non sono particolarmente descrittivi nel parlare della presenza di gesù a gerusalemme per le feste non è l'intento principale dei vangeli quello di essere una biografia di raccontare esattamente tutto quello che gesù ha fatto ci sono accenni qua e là pensiamo a luca l'abbiamo citato anche nello scorso episodio quando parla di gesù neonato che viene presentato al tempio da maria e giuseppe gesù che viene ritrovato al tempio dopo lo smarrimento e poi ci sono degli aspetti in comune a tutti e quattro vangeli per esempio la cacciata dei mercanti dei cambiavalute dei venditori di bestiame nel cortile del tempio e tutti e quattro evangeli ovviamente sono concordi nel raccontare insieme l'ultima pasqua di gesù a gerusalemme e poi c'è giovanni che oltre a raccontare la presenza di gesù a gerusalemme per quell'ultima pasqua ne parla anche in altre occasioni al capitolo 7 sentiamo che gesù era a gerusalemme per la festa delle capanne e poi quel piccolo versetto che abbiamo letto all'inizio il capitolo 10 di giovanni dove si parla della presenza di gesù che passeggiava sotto il portico del tempio durante la festa della dedicazione ci sembra strano questo via vai di gesù con gerusalemme in quelli che di fatto erano dei pellegrinaggi ma strano non era assolutamente perché gesù era ebreo e la cultura ebraica aveva il pellegrinaggio come elemento imposto e ben normato ben legiferato da alcuni passaggi della bibbia il nucleo di questi erano i tre pellegrinaggi in ebraico shalosh regalim in occasione delle tre grandi feste intanto pesac la grande pasqua il momento in cui si festeggia la liberazione della schiavitù dell'egitto poi c'è shavuot la festa del dono della torah in cui si celebra sette settimane shavua in ebraico significa settimane dopo l'evento del sinai il dono della legge e poi la festa di succot la festa delle capanne chiamata anche festa dei tabernacoli che è proprio quella che cita giovanni nel suo capitolo 7 la festa in cui si fa memoria degli anni nel deserto in cui il popolo ebraico viveva in delle capanne precarie ma sempre sotto il costante ausilio e la costante protezione del signore in queste tre occasioni c'era l'obbligo per ogni maschio adulto del popolo ebraico di salire al tempio alla presenza di dio per presentare un'offerta un obbligo che come dicevo prima è citato dalla bibbia sia nel libro di esodo ma soprattutto in deuteronomio al capitolo 16 versetto 16 e ci sono poi altre occasioni per salire al tempio come la festa di cui abbiamo sentito all'inizio nel capitolo 10 di giovanni una festa che non è di radici bibliche ma stabilita da maestri del talmud questa festa è la festa della dedicazione o la festa di hanukkah per parlare della festa di hanukkah hanukkah in ebraico significa inaugurazione o proprio dedicazione dobbiamo fare un salto indietro nel tempo al 323 avanti cristo anno in cui muore alessandro magno alessandro magno aveva conquistato gran parte del mondo allora conosciuto imponendo durante le sue conquiste un processo di ellenizzazione di tutti i nuovi territori conquistati alla sua morte l'impero viene diviso tra i suoi generali in satrapie dando origine a delle nuove dinastie delle nuove stirpe regnanti ecco per la nostra storia ci interessa in particolar modo una di queste dinastie che è la dinastia seleucide in particolar modo di questa dinastia ci interessa una figura che antioco epifane quarto nel secondo secolo avanti cristo siamo nel 176 antioco darà il via all'ellenizzazione di gerusalemme con una dura repressione del popolo verranno proibite le circoncisioni verrà proibita l'osservanza dello shabbat ma verrà anche costretto il popolo ad abbiurare davanti al re pena la morte e poi un affronto incredibile per la santità del tempio viene appunto messa all'interno del tempio una statua di zeus questa violenza come ovvio trova le resistenze del popolo una serie di resistenze sempre più forti che sfocia in quella che ricordiamo come la grande rivolta maccabaica quella che è raccontata nella nostra bibbia dai due libri di maccabei questa rivolta dei maccabei guidata dal sacerdote mattatia e da suo figlio giuda appartenenti alla famiglia degli asmonei giuda è il grande difensore giuda è la la l'araldo della rivolta quello che viene ricordato come il maccabeo maccaba in lingua ebraica significa il martello quello che martella e ancora una volta una vittoria del piccolo davide sul suo golia personale che rappresenta una delle più belle pagine di vittoria della storia ebraica di questa vittoria il simbolo più forte è la liberazione di gerusalemme e la riconquista del tempio che avviene nel 25 del mese di chislev siamo nel periodo invernale è da questo episodio che nasce la festa di hanukkah o festa delle luci festa della dedicazione come già detto annukkah non è una festa descritta nella tanakh nella bibbia ebraica ma insieme per esempio alla festa di purim è una festa di decreto rabbinico cioè istituita in epoca rabbinica con il talmud ed è proprio il talmud che ci racconta il miracolo che viene ricordato e celebrato durante la festa di hanukkah quando i greci entrarono nel tempio resero impuro tutto l'olio e gli asmonei dopo aver sconfitto il nemico greco cercarono e non trovarono che una sola ampolla d'olio che era rimasta pura perché ancora chiusa con il sigillo del sommo sacerdote questa ampolla sarebbe bastata per illuminare il tempio un solo giorno accade un miracolo con quell'ampolla e così essi poterono accendere il lume per otto giorni l'anno seguente stabilirono di rendere quei giorni giorni di festa e di lode ancora oggi nella festa di hanukkah si accende l'annucchià il candelabro a nove braccia otto candele una accesa ogni sera una per ogni giorno del miracolo più una nona chiamata lo shamash il serbo il servitore che serve appunto ad accendere sera per sera la nuova candela l'annucchià viene messa poi in bella vista viene messa sui balconi viene messa sui davanzali perché il precetto ricorda di rendere pubblico il miracolo di condividere il miracolo della luce hanukkah è davvero la festa dei bambini i bambini aspettano la festa ogni sera sono loro che accendono le nuove candele sull'annucchià gesù da bambino attendeva questa festa questa festa così domestica così familiare gesù da bambino ogni sera accendeva una nuova candela per mostrare a tutti il miracolo gesù è ebreo e da ebreo osservante della legge almeno tre volte l'anno era pellegrino a gerusalemme almeno tre volte l'anno saliva il tempio gesù come ogni ebreo faceva memoria del bene di dio festeggiava la festa di hanukkah e ogni altra festa comandata torneremo a parlare delle feste ebraiche torneremo a parlare di hanukkah ma intanto nel prossimo episodio incontreremo una nuova figura un personaggio storico molto importante per la storia ebraica e per la nostra storia evangelica il re erode il re regnante quando nacque gesù un personaggio molto molto controverso che per noi è rimasto famoso per la strage degli innocenti chi era veramente erode da dove proveniva era veramente e semplicemente un pazzo che era capace di sterminare degli innocenti solamente per paura di perdere il suo trono il nostro video di oggi è finito questo è il momento dei like e dei commenti che se volete vi ricordo potete lasciare qua sotto ci vediamo la prossima settimana con il prossimo episodio in compagnia di erode leitraot grazie a tutti grazie a tutti